Allora, siccome oggi è ancora presto per prepararmi e sono in vena di chiacchierare, perché mi sono vista amici e poi mi sono vista una puntata di The Glory, che è una serie coreana mozzafiato, parla della vendetta, bellissima. Parla di bullismo, parla di questa ragazza che quando faceva il liceo veniva bullizzata violentemente da tre ragazze e dei ragazzi della sua scuola, proprio maltrattata, veniva proprio, non vi dico la trama perché altrimenti vi tolgo la surprise, non spoilero, però ecco, fa molto pensare. Dieci o vent'anni dopo questa ragazza ovviamente è cresciuta, è diventata qualcuno, è diventata bellissima e sta meditando una vendetta di quelle toste, di quelle toste. Quindi se non la guardate vi consiglio di vedere questa serie, ma non è di vendetta o di bullismo che voglio parlare in questo video, voglio parlare di un argomento che trovo proprio contrastante tra le persone, no? Cioè noi chiamiamo i profumi e che magari investiamo anche dei soldi in questi profumi, perlomeno io che sto diventando sempre più appassionata, ma non esperta. Io ci tengo a sottolineare che io non sono un'esperta, chissà se lo diventerò mai, mi piacerebbe, però non sono un'esperta, sono un'appassionata di tutti i profumi che possano darmi delle emozioni, un po' come la musica. La musica a me piace tutta, deve emozionarmi, straniera, italiana, classica, rock, heavy metal, dark metal, progressive, insomma, forse l'unica musica che non mi piace è la musica latinoamericana, perché mi annoia, dopo tre minuti, ding-dong-dero, ding-dong-dan, mi ha rotto le scatole. Quindi anche il profumo, secondo me, mi deve dare emozione per piacermi e mi piacciono tanti tipi differenti di fragranze, anche se ormai io sono orientata, ho capito, verso le fragranze orientali, un po' vanigliate e per l'inverno speziate, mi piace molto l'oud, mi piace la cannella, la noce moscata, l'incenso, il caffè. Qualche nota fruttata, tipo la prugna, la pesca, l'albicocca. Mi piace molto la ciliegia, che ho scoperto da pochissimo, perché pensavo che non mi piacesse, invece, da quando ho il mio Mancera alla ciliegia, ho perso la testa, magari lo uso oggi. Per cui, invece, in estate preferisco i profumi prevalentemente floreali, proprio quei giardini femminili. In inverno mi piacciono molto anche gli unisex, tipo i montali, Mancera, profumi di nicchia, ma non ne ho tantissimi, perché sto facendo una bella schermatura. Estate e primavera, invece, fiori, fiori, fiori a profusione. Un fiore che non mi piace molto è il giglio, perché lo trovo un po' invadente, però è freddo come fiore, è un fiore gelido. La tuberosa la sto un po' selezionando, perché mi piace la tuberosa quella cremosa lattea, e non mi piace più la tuberosa quella verde. All'inizio mi piacevano tutte le tuberose, però poi ho proprio constatato che su di me alcune tuberose stanno veramente male, quindi ne ho eliminate un po'. Ho ancora da vendere la tuberosa di Bulgari, che la vendo proprio a un prezzo stracciato, ma non lo so, probabilmente come non piace a me non piace ad altri. Però ho altre ottime tuberose. La mia preferita è quella di Madonna, Trout of Dare. Secondo me supera di gran lunga tutte le varie tuberose famose, tipo Fakat, poi ce n'è una che si chiama Musa, qualcosa, non l'ho sentita ma non mi ha detto assolutamente nulla. Altre tuberose che ho avuto, poi le ho date via perché non mi hanno soddisfatta. Insomma, ho qualche tuberose di quelle che piacciono a me, quindi deve sapere un po' di latte, no? Deve essere una tuberosa così cremosa. Ma l'argomento di cui voglio parlare oggi è la persistenza e la scia. Allora, ho fatto anche un piccolo post sul mio gruppo. Persistenza e scia. C'è chi è a favore e c'è chi è ferocemente contro. E volevo sapere cosa ne pensavate voi. Allora, io da un profumo mi aspetto sicuramente la persistenza. Perché ho parlato con persone che comprano solo profumi di nicchia, però se un profumo dura anche dieci minuti loro sono contenti lo stesso. Io inorridisco a sentire queste cose perché per me la persistenza è fondamentale. Cioè, io se mi spruzzo un profumo mentre sto finendo di truccarmi e quando è il momento di uscire e non lo sento più, mi incazzo. Come penso che sia una cosa abbastanza normale, no? Ma non sto parlando di marche o di brand. Parlo di un profumo da 3 euro come da un profumo da 200 euro, per dire. Quindi la persistenza, cioè almeno quell'ora che è poco, comunque almeno un'ora, se metti vado a fare la spesa, sto via un'ora, o vado alle poste e sto via un'ora, mi piace che si senta. Almeno io lo devo sentire. Purtroppo nella mia vita ho avuto profumi che sono durati 3 minuti. Però in mente il mio pH e la mia pelle, il mio naso. Ho avuto l'incenso della strega del castello che è un incenso buonissimo, proprio una favola. Io lo spruzzavo dopo 3 minuti. Evanescenza totale. L'ho spruzzato un po' per l'aria, l'ho fatto decantare, mi hanno dato mille consigli. Niente, sto profumo, su di me non ne vuol sapere. Probabilmente su qualcuno durerà di più, infatti l'ho venduto a una ragazza che lo voleva e gliel'ho proprio svenduto, perché io quando vendo i profumi li svendo, perché comunque aperti, spruzzati almeno una volta, sono profumi usati. Fortunatamente, tra i profumi che sto usando al momento, non ne ho di non persistenti, grazie al cielo. Vabbè, io amo il Montal, che si sa che il Montal durano i giorni. Sono andata a Trieste la settimana scorsa e mi sono portata il L'Infance Cafè. Inutile spruzzarlo sia la mattina che alla sera, perché l'ho spruzzato una volta e vi dura tre giorni. In più ho lavato i vestiti che avevo, questo maglioncino lo avevo lì a Trieste, spruzzato sopra l'Intense Cafè. L'ho lavato, l'ho steso e l'Intense Cafè ha lasciato una scia, una traccia. Quindi i profumi montali, i profumi lansera, altri profumi di nicchia che ho, i Boyce sono molto persistenti, qualche cosa di molto persistente. Mi trovo molto bene con i Fragonard, i Lush neanche a dirlo, i Lush sono proprio tatuaggi, più altri che adesso, beh, non mi ricordo. Quindi per me la persistenza è, mi sembra il minimo, no, in una fragranza. Anche i profumi di Lorenzo, pazzaglia, hanno una bella persistenza. Io ho Vampirum o Vampyrum, che dir si voglia, e mi piace tantissimo perché c'è questa meravigliosa vaniglia alcolica, diciamo, con il rum che è proprio il mio genere. Adesso la sto usando meno perché dovrebbe arrivare la bella stagione, oggi è nuvoloso, mi sa che pioverà tra un po'. Quindi non mi sono ancora preparata perché non so cosa mettermi, poi vado sul balcone a sentire un po' che aria tira. Però magari potrei anche usare Vampirum, anche se è un evento che non richiede un profumo così sofisticato, diciamo così, perché comunque i profumi di Lorenzo secondo me sono molto sofisticati. E poi si parla del discorso scia. Chi ama la scia, chi odia la scia. E mi incuriosisce questa cosa, perché per quanto riguarda la scia, non tutti i profumi che possiedo mi piace che lasciino una scia. Mi piace che siano profumi un po' più intimi, li sento io, li sente chi mi sta vicino, però non li sente chi mi è a distanza di metri. I montali lasciano la scia. Lì a Trieste sono entrata da Douglas con il Intense Café. È un negozietto piccolo, tutto lungo, un po' un corridoietto. Mi sono avviata verso il fondo e la commessa mi ha seguita e mi fa «Signora, ma che scia lascia!» E mi ha riconosciuto il profumo che indossavo e mi ha fatto piacere, perché comunque mi piace che le persone mi facciano i complimenti per la fragranza. Per quanto riguarda il corso scia, allora, io sono per il sì. Scia sì, però che non sia esagerata, che non sia una scia di quelle fastidiose, perché soprattutto se si va in un locale chiuso con persone, magari, per esempio, se ci sono i bambini mi dà fastidio lasciare una scia troppo potente. E poi c'è anche il problema che ci sono donne che hanno dei profumi diversi dal mio, che hanno una bella persistenza, una bella scia, quindi se siamo in tre o in quattro con una scia potente facciamo una macedonia e diventa anche fastidioso. Quindi è un discorso che mi incuriosisce molto questa cosa. Io sono sicuramente per la persistenza che deve essere fondamentale e anche per la scia in certi casi. Preferisco lasciare la scia forse per i profumi invernali, perché comunque se ci esce fa ovviamente freddo e la scia scalda un pochino, sono perlomeno i profumi che uso io invernali, sono tutti molto caldi, molto orientali, cremosi, vanigliati, appunto con note legnose. Però devo dire che anche in estate, se uso i miei florealoni, mi piace che comunque quando passi questa nota floreale, insomma ti seguono. Quindi mi piace sapere cosa ne pensate di questo discorso. Persistenza e scia, sì o no? Sicuramente, ripeto, l'ho già detto prima, che sia da 3 euro, che sia da 50, da 100, da 150, da 200, almeno qualche ora lo voglio sentire. Per esempio questo qui, spero di beccare la scatola giusta, no? Allora devo cercarlo di qua, che diventa difficile, perché vediamo se l'ho preso, sì? Eccolo. Allora, questo l'ho comprato l'anno scorso, Sanremo. Questo è un profumo di Cajal, che si chiama Ouarde. A parte, vabbè, la scatola meravigliosa, la boccetta. Questo profumo, che costa un occhio della testa, non vi dico quanto, è questo. Questo profumo mi ha soddisfatta in tutto e per tutto. Ha un'evoluzione continua. È un floreale, che dopo qualche ora diventa cremoso, che poi diventa vanigliato, e alla fine diventa talcato. È veramente una cosa fantastica, anche sentirlo così. Veramente uno spettacolo. Io sono stata ora in questa profumeria, perché come l'anno scorso mi avevano fatto fare il viaggio olfattivo, questo è il mio pigiamino panterato, il viaggio olfattivo, quindi Giorgio, che è il venditore di questa profumeria, Laboratorio Olfattivo di Sanremo, come l'anno scorso mi ha fatto accomodare, mi ha offerto del tè con i pasticcini, ne abbiamo parlato dei miei gusti, e poi quando gli ho chiesto cosa desideravo, quest'anno cercavo, l'anno scorso cercavo, no, due anni fa, cercavo la vaniglia e l'incenso, e da lui avevo preso due profumi di Alexander J., entrambi uno alla vaniglia e uno appunto all'incenso. Quest'anno cercavo la tuberosa e del miele. Alla tuberosa non mi ha soddisfatto nulla, ho sentito anche il lab tuberose di Amouage, però su di me risulta una tuberosa verde, quindi no. Speravo che fosse una tuberosa cremosa, invece l'ho scartata subito. Però mi ha detto, in alternativa alla tuberosa, ci sarebbe questo qua, che è un friorito molto particolare, e quando l'ho messo, mi sono proprio innamorata, sono impazzita per questa fragranza, che veramente è un 100 millilitro, oltretutto c'è la boccetta pesante, con il tappo di metallo, che è veramente pesantissimo, infatti poi per tornare pesava quasi più lui del trolley, con dentro i vestiti, perché quando vado in vacanza porto pochissime cose, perché alla fine io mi faccio le mattinate camminando, passeggiando, quindi anche con un abitino leggerissimo va bene. Poi vado al mare verso mezzogiorno e alla sera, vabbè, qualcosina di diverso, però alla fine, in dieci giorni, quelli sono le cose che uso. L'anno scorso, in via del tutto eccezionale, ho comprato un profumo, un abitino lì al mercato, perché c'era questo banco di... Sto cercando di ritirare lì il profumo nella sua scatola e come sempre, oh, ce l'ho fatta. E ho comprato questo vestitino turchese viola, molto, un po' esoticheggiante, però di solito io non compro vestiti quando vado al mare, perché io sono già proiettata verso l'autunno, quindi abbigliamento estivo non ne compro, però i profumi sì. e per il miele mi sono presa il... è uno del laboratorio olfattivo che ce l'ho laggiù, vabbè, già che ci siamo, andiamo a prenderlo, che è un bellissimo miele, aiuto, Allora, si chiama... Che brutta cosa non vederci... Eccolo qui, Nectar. Già il nome, Nectar, fa pensare a cose mirabolanti. Ora, ovviamente, il laboratorio olfattivo, io che amo il nero, come il profumo precedente, è questo... Molto gotico, eh, molto gotico il pack e anche la boccetta, tutta scura. E qui c'è un bellissimo miele. Allora, cosa devo dire di queste due fragranze? Il laboratorio olfattivo costa decisamente meno di... di Cajal. Questo ricorda un pochino il miele di Montale, però ha qualche cosa di diverso, cioè non è un... un clone. Buonissimo, buonissimo. Però questo, ecco, persistente, sì, scia meno. Però, vabbè, e questo è pesantissimo anche lui, perché è tutto vetro, anche il tappo che è calamitato è pesantissimo, non so di che materiale sia. E quindi, in buona sostanza, il video a cos'è servito? A sapere cosa ne pensate voi. Cosa ne pensate voi della scia della persistenza? Per quanto riguarda queste due mie fragranze, il Cajal lascia una bella scia che lascia il segno perché è un profumo così, è veramente il top dei top. Mentre il Nectar non so se è per il miele che magari il miele non lascia la scia, non lo so, sono quelle cose che io chiedo a voi perché io devo imparare. Quindi, cosa ne pensate della scia e della persistenza? Siete contrarie? Siete a favore? Chi lo sa? Se avrete voglia di rispondermi, io sarei contenta di leggere. E basta, per oggi diciamo che finiamo qui perché adesso sono le 5 e mezza, manca ancora un'ora la mia uscita, adesso faccio un salto in balcone per vedere che aria tira, ma dalle nuvole nere mi sa che tira una brutta aria, quindi tornerò al maglioncino e alle calze pesanti con gli stivali. Ciao ragazzi, buona domenica e alla prossima. Ciao!